Siamo al centro commerciale Oceania di Casamassio, una ridente cittadina del sud barese, quando il nostro video amatore riprende una macchina in fiamma nel parcheggio del centro commerciale. Da lì a poco scatenerà l'inferno. Mentre le altre auto cercano una via di uscita, nessuno fa nulla e tutti gli fermano da servare, l'auto in fiamma, pronta a fare il volto. Ed ecco che si sente l'autoranza, la siena dei pompieri. Ormai l'auto è preda delle fiamme. Il centro commerciale potrebbe intervenire con i suoi estintori, ma chi è così fast ad avvicinarsi all'auto che potrebbe far saltare il serbatoio? Il resto commerciale è una russiera che li fa capire, Ed ecco arrivare finalmente i più in piedi, prontamente chiamati dai passanti, ormai le fiamme stanno banchettando con il medico, è per il più vitale dell'auto, non c'è qui niente da fare, se non comprare un'altra vettura. Finalmente i pompieri rilasciano i tubi, espruzzano il posto di getto d'acqua sull'ormai bruciata carrozzeria del veicolo, ed un'enorme nuvola di fumo prende il posto delle fiamme, che ormai hanno divorato tutto. Per fortuna nessuno si è fatto male e non ci sono feriti. Grazie a tutti e al prossimo episodio di Bizarreal TV. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.